Salve a tutti, volevo dedicare questo video a Filippo Facci, giornalista che ci ha definito come l'immondizia dell'Italia intera, che ha detto che noi napoletani siamo dei poveracci. In te pots manca chiamare uombe in merda perché si si chiamare a somma e tu e uombe in dire niente, manca i capillati nella sissa capenissi Italia. Tu sei talmente scema che a 18 anni ti ha imparato a sbattere in mano, non puoi parlare di me. Cioè noi la chiamiamo Filippo Facci, io te la chiamo Filippo Feccia perché sei la Feccia dell'Italia. In tassi e tassi in terra a un palazzo e tu quinta piana tu tassi un saccoccio e un buitone in capachino e merda. Tu vuoi parlare di me, vedi Napoli e poi puzza. Ma tu sai che viene a Napoli e rimane sconvolta dalla bellezza? T'è la sissa faccia di quando padre che lo scornacchiato e trovai a mamma di noi e toccunata, tu vuoi parlare a città di me. Secondo me tu sei pure single, che nobile che sta mai era un sovizio, manca molto convenienza. Tu sei un secca pacca e tutti i giornalisti italiani ti metti a parlare di Napoli. Comunque Filippo facci una cosa, fammi un piacere, anzi fammi un piacere all'umanità. Giuro te rinducesse che i strunzi stanno buoni solo là.